Siamo qui alla presentazione ufficiale di qualcosa di speciale che piacerà molto a Luca Gobini. Senta prima il tatto, signor Gobini, senta. Come sente il tatto? Mi dica, si enunci. Si enunci. Fogli di fico? Quasi. Alloro australiano, buccia di banana seccata. Perfetto, adesso abri gli occhi pure. Guardi. Batti gli occhiali. Che cazzo. Belli, impossibili. I biglietti da visita nuovi. Posso dire una cosa? Fanno cagare. Mi fanno cagare il cazzo. Piccolini, non si legge, poco si legge. Che li ha fatti questi qua? Luli, va a fare un cazzo il lavoro. Fai, cambia lavoro, va.